Perché quando vai dal parrucchiere ti dicono prego, si accomodi pure, facciamo una consulenza? La consulenza è una parte essenziale del servizio offerto dal parrucchiere e ha diversi scopi. Ma quali sono questi scopi? Scopriamolo insieme. Condividere consigli e tendenze. Comprendere le sue esigenze. Valutare il tipo e la condizione del capello. Tenere in considerazione anche la forma del viso. Creare una relazione di fiducia tra parrucchiere e cliente. Tutto questo per evitare frentendimenti. In sintesi, la consulenza è un processo collaborativo che mira a creare una comprensione approfondita delle esigenze del cliente. È un passo cruciale per garantire un'esperienza positiva. Risultati che soddisfino l'aspettativa del cliente. Ora non ti resta che prenotare una consulenza gratuita in uno dei nostri seroni Zephyro.